Mezza tonnellata di hashish, come avete fatto? Una indagine lampo partita da notizie confidenziali apprese sul territorio, riscontrate con servizi di osservazione e pedinamento e accertamenti immediati. L'indagine parte la mattina dell'altro ieri, quando ci si mette sulle tracce di questo cittadino marocchino che sapevamo essere implicato in grossi traffici di stupefacenti e per cui tutto il giorno sulle tracce di quest'uomo che viene pedinato, le cui viene monitorato attraverso le auto che usa, fino alla sera quando, uscendo di casa, viene fermato dagli agenti della sezione antidroga e perquisito. A casa apparentemente non c'era nulla, quando poi troviamo delle chiavi che aprivano un garage non distante da via Reginaldo Giuliani, ci portiamo in questo garage e vediamo che c'era questo grosso carico di sostanza stupefacente destinata senza dubbio al mercato fiorentino. Che valore è? Ed è un sequestro record per la questura di Firenze? Non so se è un sequestro record, è un sequestro importante, sicuramente. Il valore all'ingrosso si aggira sul mezzo milione di euro, però al dettaglio si moltiplica all'ennesimo potenza. Quante persone coinvolte? Abbiamo arrestato due cittadini marocchini, uno dell'84 e uno dell'87, sicuramente implicati. Vedremo se ci sono altri complici in questo traffico di droga, però in prima battuta sono coloro i quali avevano la disponibilità della sostanza. La provenienza diciamo che si presume sia dal Marocco, anche per la cittadinanza dei due arrestati. Però anche qui ci riserviamo di fare ulteriori indagini, accertamenti, anche perché questo è un arresto in flagranza appunto nato dalla capacità di alcuni operatori che hanno saputo sviluppare una notizia appresa sul territorio. I reati sono? Detenzioni ai fini di spaccio, aggravati naturalmente dall'enorme quantità di droga sequestrata. Tra l'altro è stata sequestrata, anche come potete vedere, una macchinetta contasoldi, che dimostra anche che giro possano avere questi soggetti. Grazie. Da quanto tempo erano in Italia? Sono residenti, però non so da quanto tempo fossero in Italia. Adesso mi sfugge.